Ed il mondo, questo mondo, è un grande set, con un'immensa scenografia, per ognuno un ruolo certamente che c'è, e certamente c'è una regia. Via, ciò che vuoi via, via, si gira, film in bianco e nero e tecnico lo sarà, sul grande schermo l'umanità. Un film colossale da girare col te, un po' di trucco non guasta se c'è, via, scatena la fantasia, via. Un film colossale da girare col te, un po' di trucco non guasta se c'è, via, scatena la fantasia, via, scatena la fantasia. Motoriazione ci sei, il tuo momento lo aspettavi e lo avrai, certo che poi è un fatto di bravura divina sarai, Se non hai paura si gira, la macchina da prese, la coscienza è della spietata e critica filmerà. Credi di convincerla se convinci lei, anche il tuo pubblico convincerai. Vincerai, vai, l'occasione ce l'hai, vai, mostra l'istrione che sei, cinema, la fantasia e realtà. Scene di violenza e poesia, sentimenti intrecci e un po' di follia, motoriazione ci sei, il tuo momento lo aspettavi e lo avrai, Certo che poi è un fatto di bravura divina sarai, se non hai paura si gira. Sì, c'è, 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 c'è. Primo piano su miseria e su vanità, via, questa c'è la realtà, Tissà, direi di drammi, sempre un film se ne va. Ah, shock! Sì, c'è, 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 c'è. Benvenuto, grazie di essere venuto. Grazie, grazie. Per Renato, il tuo pubblico ti ama sempre moltissimo. Io vi ricordo un tuo film musicale delizioso che si chiamava Ciao, Ni. E poi un gran silenzio, cos'è successo? Ciao, Ni, dopo quello proprio sto finendo i giochi. Cioè? Nel senso che non ho avuto un gran seguito dopo quell'esperienza lì, però ultimamente devo dire che sono stato contattato e questo mi ha dato la possibilità di vedere nel cinema un futuro, diciamo, forse puntantino. Allora, Ede, proveranno. Sì, dopo la mia tournée, che partirà il 24 di questo mese e finirà ad agosto, prevedo che non farò un film il 30 di agosto con Fellini. Oh, caspita. Poi prevedo di non fare neanche un film con Bolognini a dicembre e di non fare ancora un film con Antonioni a gennaio. Ma che programma! Prevedo proprio che non farò più film. Ma è straordinario, un applauso! Straordinario! Veramente, sì. È incredibile questo ragazzo, ha sempre delle sorprese. Ma è possibile che tra voi non c'è un produttore che non gli fa fare un film? Ma come, è arenato zero! C'è, c'è sicuramente c'è, c'è, sicuro. Tanti auguri per la tua tournée. Per te, cinquamente. Te saluto!